Il film dell'italiano motocross riparte. Brescia, Gazzane di Perseglie, italiano MX1, MX2, l'epilogo. Il nuovo campione italiano della MX1 è Alessandro Lupino. È stato un anno difficile, dopo l'infortunio a novembre è una piccola soddisfazione perché il campionato italiano comunque credo che sia un campionato valido e i piloti della propria nazione è giusto che fanno il proprio campionato nazionale. Domenica, da Gazzane di Perseglie, andrà in scena il sesto round, ultima prova del campionato italiano MX1, MX2. Anche se andavo bene oggi, che sono riuscito a vincere tutti e due, sono riuscito a passare furlotti, dopo ero anche io un po' stanchino, alla fine abbiamo lottato, ho avuto la meglio io. Il tuo piloti non mi aspetta a me il caldo. Ho cercato di tenere il ritmo di Ivo che è altissimo. Il cartello dei 5 secondi sta per scattare, gara 2, campionato italiano motocross. Nuvolari e Sport Television dedicheranno ampio spazio all'evento con collegamento in diretta dalle 14 per ascoltare le voci dei protagonisti. Campionato italiano motocross MX1, MX2, live dalle 14, in esclusiva assoluta su Nuvolari e in diretta streaming su www.sporttelevision.it Sport Television, ti portiamo il motocross a casa. Grazie.